ma dove verso blu è lo sciacallo e vai andiamo lo sciacallo era un po' zona ma vabbè ragà dovrebbe sta gente per di line segnato un puntino rosso ecco lì ha detto luigio madre luigio prossimo obiettivo localizzato si è aperto il paracaduto mentre correvo ma fatto spaventare un'altra cosa che c'è stato qualcuno sicuro tonto l'ox abbiamo pure i soldi davanti davanti smirox ok si infatti speriamo questo va bene sicuro l'amico pensavo che fosse uno di voi in realtà vedo una macchina qua fuori è sotto io sto scendendo è scendendo da solo perché c'è lo sciacallo qua sotto sta in giro ancora questo si eccola è montato un porta sentito alfredo si tutta rabbia tutta rabbia ma dove stiamo anche un bel negozietto sopra o ha ripreso di nuovo la macchina si si sta allontanando sono in due sono andando al negozio si a prendere equipaggiamento forse io direi andiamo andiamo ecco sono quelli alfredo stai un po più dietro dove stanno non li vedono avete i secoli dietro l'angolino tutti e due a terra a terra a terra tutti morti si ragazzi mi ha dato tutti e due le uccisioni a me io ho preso il bombardamento di precisione ho preso altre 5 piastre ok affre i dubbi di quello che vuoi ho preso l'M41 signori uh potevo prendermi le piastre perché ho preso il bombardamento stanno qua e per te si ok grazie ragazzi vogliamo mica vogliamo muoverci qui piano piano dove ci sta la è perché così cominciamo a disolvere le montagne no no la torre quel negozio quella casa dove si recuperano le armi cioè dove si caricano le armi penso di aver capito avete visto se sulla torre c'è qualche cecchino eh si ci sta uno mi mira e mira sulla torre si livello intermedio avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo hittato hittato ragazzi fatemi copertura si sto sparando bravo poi io lo sto prendendo gg ok atterrato gg c'hai colpi di rpg come ha fatto si ragazzi in movimento nuova giornata individua ragazzi cominciamo a salire si io sto cercando di spostarmi piano via da questa parte è vuota io tengo i colpi di rpg simmo te li do corazza qua c'è una corazza ragazzi è una cosa mi dovete passare a prendere perché è rimasta indietro aspetta mo ti copro io con l'rpg dove sta l'rpg gg corazza qua ci sono di sopra della casa te li rimango qua per terra si ho dei colpi per lanciatore qui ok sei pronto eccomi sto correndo aspetta aspetta che qua non lo vedo ancora aspetta aspetta spostati gg non lo usare l'rpg sia una cosa l'ho visto che sei raffacciato e sei riabbassato va va ce la fai è tornato simone è tornato ok ok si posso 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 grazie mi ha atterrato signori cacchio eh raga lasciatelo stare sia simone se non lo è riuscito a curare perché lo facciamo a riuscire a qua che non c'è stato nessuno aspetta 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 non riesci a venire qua io sono riuscito ad arrivare aspetta ci provo che sto senza coraggio ma sta sulla torre si si livello intermedio allora me lo sparo io me lo sparo io me lo sparo io meno male che mi sto mettendo le piastre eh sparategli così vado sto sparando sto sparando vai 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 lo tengo sotto miri io ci sto ci sto quasi anche se non lo sto colpendo è giusto per spararlo così eh per farlo capace c'è uno qua davanti eh raga oh mi sparo c'è uno qua dietro c'è uno qua dietro entrano in casa ecco allora lo vedo è uno soltanto una femmina domino dove dove non la vedo io eh ma non la vedo più comunque stava per di là cecchino ci sta mirando di nuovo ma forza ok vabbè sto in casa tutto a posto soldato nemico in arrivo eccolo lo seguiamo a è sopra di noi è sul tetto ok eh sta qua sta qua sta qua sta qua sta qua sta qua no 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 lo copri? si vai no è sceso è sceso è sceso a terra a terra c'è la misera ma niente avanti c'è la misera poco c'è una natale eh ma ha tolto tutte le corazze con quella cacchia di pistoletto ma ti sento le corazze qua fuori? sta uno a terra gas in arrivo alla nuova pazzola c'è l'altro eliminato dov'è l'altro? dov'è? qui ci stanno sopra scendono 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 stanno sopra? si stanno scendendo ma non è così ma come cacchia che si sono buttati da sopra col paracadute c'è qualcuno vivo? ah ok oh ah io si chiudeva pure dove stavamo noi ma non c'è il figlio oh no Peppe no ucciso oh l'altro c'è l'altro sono a terra io lui ce la fai? ui ma sono lui sto dentro vai rianno eh non sto dietro al coso maledetto che non è altro no non ci si due non ci si due ma non sono riuscito a accedere l'altro ah no il fucile a doppia cam raga io sto l'equipaggiamento ho conquistato l'obiettivo ho preso ho vinto sto arrivando e a me se mi colpiscono mi sbattono per terra io sto nell'aereo eh oh mi hanno provato a sparare che felo wow 39 metri e 3 3 da qua eh stanno di qua ingaggio quindi ci vengono da dietro perchè da la non possono venire o mi sbaglio raga ma avete visto dove si chiude la safe? eh a posto siamo morti oh c'è il cecchino arriva un lancio di equipaggiamento arriva un lancio di equipaggiamento dove sono pingameli e le pinga alfredo alfredo e lo prendo su d'asta perchè non li vedo non voglio spostarmi per evitare di essere ucciso io vedo l'equipaggiamento ah la eh ma io forse da qua non li vedo eh hanno toccato alfredo il genio oh è il genio buttati giù buttati giù buttati giù buttati giù alfredo vatti più dietro buttati giù esatto ecco bravo ok si è buttato vai 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 alzati i discesi li rascano oh dai è entrato qualcuno è tutto nelle tue mani eh dai aveva una sola piastra ah vabbè un discese lo posso ragazzi va bene se vi è piaciuto questo video lasciate il mi piace commentatelo se volete mi raccomando ragazzi continuate a seguirmi ci vediamo col prossimo video ciao a tutti e alla prossima ciao 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 ciao